La professoressa Stefana Negri è professore di diritto internazionale nell'Università di Salerno ed è autrice di una monografia sulla salute pubblica, sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale quindi congiunge tre tematiche che di per sé non è scontato che si possano mettere in connessione e ci parlerà di ambiente e salute nel diritto internazionale. Grazie Presidente, anzitutto desidero ringraziare la professoressa De Cicco e la carissima amica e collega Agostina Latino per questo graditissimo invito, sono molto felice di essere all'Università di Camerino per la prima volta spero non sia l'ultima che mi inviti. Parlerò di salute e ambiente, almeno tenterò di ricostruire il quadro normativo con un riferimento specifico alle fonti di diritto internazionale dell'ambiente e come queste contribuiscono alla tutela della salute pubblica andando a integrare altre fonti normative internazionali e soprattutto le pochissime fonti di diritto internazionale sanitario che abbiamo al momento vigenti. Questi sono i primi risultati di un progetto di ricerca che sto sviluppando a Salerno nell'ambito delle attività della Cattedra Giammone su diritto europeo della salute e ambiente della sicurezza alimentare quindi siamo su temi a cavallo con Pia e con altri colleghi e sono risultati che in parte sono confluiti in uno studio che abbiamo preparato sempre insieme anche per un rapporto preparato per il Global Health Law Committee dell'International Law Association di cui facciamo parte entrambi quindi che ha dedicato una sezione di questo rapporto approvato quest'anno a Sydney al tema salute e ambiente. Detto ciò mi pare che una relazione o meglio un approfondimento sulla salute si integri bene nello spirito generale del convegno, la salute è stata richiamata nelle relazioni della prima parte del pomeriggio e quindi essendo tema trasversale a tutte queste problematiche di natura ambientale insomma qualcosa può essere utile aggiungerla appunto nella prospettiva delle fonti del diritto internazionale ambientale e come approccio mi sembra anche opportuno richiamare visti i rinvii molteplici fatti anche dal collega Giovagnoia questa integrazione tra antropocentrismo, ecocentrismo, biocentrismo e così via richiamare l'approccio cosiddetto One Health che muove io mi atterrò a un testo per evitare di cedere alla tentazione di divagare e quindi tentare di rimanere nei tempi che mi sono stati assegnati questo approccio One Health muove dalla constatazione che la salute degli esseri umani è legata alla salubrità dell'ambiente alla salubrità dei cibi appunto e anche alla salute animale e come è noto infatti i rischi maggiori per la salute pubblica derivano tanto dalle malattie trasmesse all'uomo appunto dagli animali, la categoria delle zoonosi da cibi contaminati, da acqua contaminata e soprattutto da fattori ambientali che incidono e alterano profondamente l'ecosistema possono incidere sulla salute umana, quali la perdita di biodiversità, se ne parlava prima il degrado dell'ambiente dovuto a un chinamento massiccio il cambiamento climatico globale ora se pensiamo, riflettiamo su questo approccio One Health ci rendiamo conto che non esprime un concetto nuovo basti pensare ai principi della medicina ipocratica e ritrovare lo stesso approccio costituisce per la verità un'evoluzione della teoria One Medicine che è stata elaborata da un epidemiologo veterinario per sottolineare le similitudini tra salute umana e salute animale e copre un poco tutti questi aspetti che vanno ad incrociarsi e che, diciamo, mirano a realizzare una prevenzione che si basi essenzialmente sulla condivisione delle conoscenze, dei dati epidemiologici, delle informazioni di laboratorio che sono cruciali per individuare, rispondere e prevenire efficacemente focolai di zonosi e problemi appunto di sicurezza alimentare tra l'altro è un approccio che sembra risulti il più adeguato per affrontare questa sfida principale sanitaria del XXI secolo che è appunto il problema della resistenza antibicrobica a cui faceva riferimento la collega Conci quindi in sintesi è un approccio integrato che consente di analizzare i problemi sanitari da plurimi angoli visuali e traduce in termini operativi la stretta interconnessione esistente tra sicurezza sanitaria, sicurezza ambientale sicurezza alimentare e sicurezza sanitaria veterinaria quindi il tutto va ad integrarsi ai fini di una migliore performance e di una tutela più effettiva della salute pubblica ora per quanto concerne nello specifico il rapporto salute ambiente è noto e se ne è parlato molto già stamattina che sono multiple le interrelazioni e si è andato affermando progressivamente il concetto di salute ambientale ed accanto a questo concetto di salute ambientale che guarda appunto a tutti i fattori ambientali che hanno una capacità di incidere sulla salute pubblica sono nate delle associazioni mediche ad hoc come per esempio la più famosa l'International Society of Doctors for the Environment nota in Italia come associazione medici dell'ambiente e anche sul piano operativo oltre che normativo mi sembra paradigmatico il fatto che l'OMS abbia creato un dipartimento ad hoc che è un dipartimento che si occupa di salute pubblica, ambiente e altri determinanti sociali della salute e si occupa appunto di numerosi aspetti di salute ambientale inclusi i cambiamenti climatici l'inquinamento dell'aria, dell'acqua i servizi igienici in generale la salute professionale la salubrità dei luoghi di lavoro la sicurezza rispetto agli agenti chimici i campi elettromagnetici di cui ci parlava la professoressa Buoto prima le radiazioni ultraviolette ionizzanti altrettanto e si registra anche un incremento di collaborazioni pratiche attive sul campo tra l'UNEP o UN Environment come si chiama ora e l'OMS entrambe queste organizzazioni, diciamo queste istituzioni hanno firmato proprio il 10 gennaio di quest'anno 2018 un nuovo accordo di collaborazione che prevede un'azione congiunta nel campo dell'inquinamento atmosferico del cambiamento climatico della resistenza antimicrobica della gestione dei rifiuti e dei prodotti chimici della qualità dell'acqua e delle questioni alimentari e nutrizionali quindi con un programma di collaborazione particolarmente ambizioso che va ad aggiungersi ad altre iniziative come per esempio l'Earth and Environment Linkages che è un'iniziativa sempre gestita dall'OMS destinata a supportare i paesi in via di sviluppo ora se ci soffermiamo alle fonti del diritto internazionale anche in questo caso io non riporto i risultati del progetto per quanto riguarda il diritto europeo perché appunto in questa suddivisione di competenze non mi spetta quindi lo tralascio posso in ogni caso segnalare e in primis la rilevanza degli obblighi che nascono da principi generali di diritto ambientale il principio di prevenzione e di precauzione sono stati richiamati più volte stamattina ma anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale che la collega Spuntarelli ci ha così bene illustrato mi fa piacere aggiungere che anche dal punto di vista del diritto internazionale si ritiene o meglio la Corte Internazionale di Giustizia pronunciandosi in alcuni casi in materia appunto ambientale che sono nello specifico la sentenza del 2010 nella causa Pulp Mills tra Argentina ed Uruguay e in due casi più recenti decisi con sentenza di dicembre 2015 uno si chiama Certain Activities Carried Out by Nicaragua in Bordes areas e l'altro Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River tutti i casi ambientali con implicazioni trasfrontaliere ebbene la Corte Internazionale di Giustizia ha asserito che laddove ci sia un rischio ambientale trasfrontaliero gli stati hanno un obbligo discendente dal diritto internazionale generale di effettuare una valutazione di impatto ambientale quindi è una procedura che per così dire fuoriesce dall'ambito dei procedimenti di rilevanza nazionale e arriva addirittura ad essere considerata oggetto di un obbligo di diritto internazionale generale ma ci sono anche numerosi accordi internazionali quindi se ci spostiamo dal diritto internazionale generale al diritto convenzionale la rilevanza della tutela della salute trova conferme importanti in alcuni accordi di diritto internazionale dell'ambiente e a questo riguardo esistono diverse convenzioni il cui scopo dichiarato proprio negli obiettivi della convenzione viene espressamente dichiarato che scopo del regime stabilito dalla convenzione è la tutela insieme dell'ambiente e della salute umana quindi c'è questa attenzione particolare ad entrambi gli obiettivi principali di questi regimi convenzionali a titolo esemplificativo e senza pretese di completezza mi piace ricordare la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti trasfrontalieri di rifiuti pericolosi la convenzione di Rotterdam sui prodotti chimici ed antiparassitari pericolosi la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti i famosi POPS e queste convenzioni istituiscono un regime internazionale di controllo dei movimenti trasfrontaliere del commercio internazionale di prodotti e sostanze tossiche e bioaccumulabili creando appunto un sistema integrato di protezione della salute umana dai danni provocati dall'esposizione a questi agenti neocivi e tra l'altro una particolarità di questo regime integrato è che dal 2010 si è creato diciamo un processo sinergico tra queste tre convenzioni che beneficiano di una direzione ora di un segretariato comuni quindi con un ravvicinamento inteso a rafforzare il coordinamento e la cooperazione appunto in materia di prodotti chimici e di rifiuti segnalerei anche perché non meno importante la convenzione di Minamata sul mercurio che è entrata in vigore non più tardi di un anno fa agosto 2017 che costituisce il primo accordo internazionale che riconosce tutte le minacce alla salute umana legate alla contaminazione dell'ambiente da questo metallo e che appronta di conseguenza un regime specifico destinato a tutelare l'ambiente e la salute umana per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico ricorderei la convenzione sull'inquinamento atmosferico trasfrontaliero a lunga distanza e i suoi protocolli e mi diciamo ci tengo a segnalare che questo problema dell'inquinamento atmosferico in congiunto al problema del cambiamento climatico è oggi al top delle priorità dell'OMS e proprio la prossima settimana 30 ottobre primo novembre si svolgerà a Ginevra la prima convenzione internazionale sulla appunto sui cambiamenti climatici e l'inquinamento dell'aria e gli effetti sulla salute che è organizzata in collaborazione da OMS UNEP organizzazione meteorologica mondiale e il segretariato della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e ovviamente richiamando i cambiamenti climatici non si può non menzionare l'accordo di Parigi con questo passaggio che ha quantomeno nel preambolo sulla rilevanza ai fini del regime internazionale di controllo o quantomeno di contenimento dei cambiamenti climatici la rilevanza dei diritti umani con un richiamo espresso al diritto alla salute una diciamo una prospettiva un profilo cui viene dato ampio rilievo anche nell'ultimo report dell'Intergovernmental Panel on Climate Change quest'ultimo del 2018 e per chi fosse interessato diciamo il segretariato ha predisposto una sintesi ad hoc soltanto focalizzata sui effetti del riscaldamento globale sulla salute umana che si chiama the 1.5 degree health report disponibile online molto facilmente e a questo proposito mi sembra doveroso menzionare per quanto riguarda gli sviluppi della prassi e soprattutto della giurisprudenza nazionale il caso Urgenda sentenza che è stata come dire accolta con grande entusiasmo decisa emessa dalla corte d'appello dell'AIA il 10 ottobre 2018 che per la prima volta insomma per la verità confermava la decisione della sentenza di primo grado ma ha confermato che il governo olandese nel caso specifico ha un obbligo un obbligo di ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020 nella misura del 25% proprio per combattere i cambiamenti climatici e proteggere la salute dei suoi cittadini cioè la corte ha ritenuto che il governo non stesse facendo abbastanza e grazie a questa sollecitazione a questo ricorso presentato da appunto dall'Urgenda da un'associazione da una ONG è arrivata questa sentenza che viene ritenuta storica non parliamo dei problemi derivanti dalla veicolazione di malattie attraverso l'acqua e qui viene in rilievo soprattutto il protocollo sull'acqua e la salute concluso sotto legge della Commissione delle Nazioni Unite Commissione Europea delle Nazioni Unite per l'Economia e diciamo su questo protocollo non vorrei dire altro che anche questo adotta un approccio integrato che è finalizzato all'allineamento di politiche e strategie intersettoriale che mira la protezione della salute la gestione ambientale lo sviluppo regionale investimenti infrastrutture eccetera eccetera ultimo in questo elenco diciamo di accordi rilevanti il protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche protocollo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica che viene utilizzato meglio per l'OMS è uno strumento utile ai fini dello scambio dei patogeni e quindi ha un'importanza fondamentale nella gestione e nella prevenzione delle pandemie sostanzialmente c'è un altro profilo che va tenuto presente che è quello focalizzato sui diritti umani sulla rilevanza dei diritti umani qui insomma alla cattedra UNESCO si parla di diritti umani non possiamo mancare di fare un riferimento a questo profilo e anche in questa prospettiva dei diritti dell'uomo il rapporto salute ambiente emerge chiaramente dal testo di numerose norme internazionali che tutelano il diritto alla salute o nell'interpretazione che di essi hanno fornito gli organi internazionali competenti e dalla progressiva affermazione del cosiddetto diritto all'ambiente salubre espressamente previsto da alcune disposizioni quali l'articolo 11 del protocollo addizionale alla convenzione americana in materia di diritti economici sociali e culturali dall'articolo 24 della carta africana dei diritti dell'uomo l'articolo 18 del protocollo alla carta africana sui diritti delle donne l'articolo 38 della carta araba e non in altri strumenti internazionali ora tornando alle norme che invece prevedono il diritto alla salute l'articolo 12 del patto internazionale che menzionava Pia prima sui diritti economici sociali e culturali è interessante nella misura in cui include tra le misure di sanità pubblica necessarie alla realizzazione del diritto alla salute anche quelle destinate a migliorare l'igiene ambientale e lo stesso fa l'articolo 24 della convenzione sui diritti del fanciullo che richiede agli stati di lottare contro le malattie che colpiscono i bambini tenendo conto dei rischi derivanti dall'inquinamento dell'ambiente naturale e l'articolo 39 della carta araba che ugualmente richiede agli stati di intraprendere azioni per lottare contro l'inquinamento ambientale per la verità sono le uniche tre disposizioni che formulano il diritto alla salute e che hanno un focus specifico sulle interrelazioni con l'ambiente ci sarebbe da aggiungere che nell'interpretazione dell'articolo 12 fornita dal comitato per i diritti economici sociali e culturali nelle osservazioni generali numero 14 del 2000 il comitato precisa include l'ambiente salubre tra i determinanti della salute e precisa che gli obblighi che discendono dall'articolo 2 e dal parer articolo 12 paragrafo 2 lettera b implicano un dovere di prevenzione e riduzione dell'esposizione della popolazione a sostanze dannose quali le radiazioni o le sostanze chimiche o altre condizioni ambientali nocive per la salute umana e questi obblighi di prevenzione trattamento e controllo delle malattie includono la predisposizione di programmi di prevenzione e promozione obblighi di implementazione eccetera eccetera ugualmente fa il comitato sui diritti del fanciullo nelle osservazioni generali numero 15 del 2013 in cui si afferma che gli stati hanno l'obbligo specifico di adottare misure atti a gestire rischi e i danni con l'inquinamento ambientale può provocare la salute dei bambini e che hanno un obbligo di proteggerli dall'esposizione alle sostanze tossiche e ai rifiuti passando sul fronte europeo il comitato europeo per i diritti sociali in considerazione della complementarità tra carta sociale europea e cedo e della crescente importanza che gli stati e altri organismi internazionali riconoscono al rapporto tra salute e ambiente ha interpretato l'articolo 11 della carta sociale europea che è dedicata al diritto alla salute come inclusivo anche del diritto all'ambiente salubre e l'ha fatto in alcuni ricorsi decisi in alcune cause importanti quali l'International Commission of Jurists versus Portugal la Marangopoulos Foundation for Human Rights contro la Grecia l'International Federation for Human Rights contro la Grecia sono tutti ricorsi rispettivamente decisi nel 99 2006 e l'ultimo è del 2013 e il comitato ha praticamente ha individuato quali sono gli obblighi fondamentali questi core obligations che riguardano la tutela della salute umana attraverso la garanzia di un ambiente salubre che sono i soliti prevenzione dell'inquinamento atmosferico adozione di misure preventive e protettive riguardanti l'inquinamento idrico e acustico la valutazione dei rischi per la salute attraverso il mentoraggio epidemiologico di gruppi target protezione delle popolazioni dalle conseguenze di incidenti nucleari che si verificano all'estero e che hanno un effetto nel paese interessato e così via credo che sia nota a tutti la famosa sentenza la comunicazione adottata dalla commissione africana nel caso Ugoni del 2001 è un case study un leading case quindi forse non c'è bisogno neanche di menzionarlo ma in ogni caso in questa occasione la commissione africana ha interpretato l'articolo 16 della carta africana alla luce dell'articolo 12 del patto e dell'articolo 24 che prevede il diritto all'ambiente salubre anche in questo caso ricavando obblighi specifici sia in senso negativo che positivo quindi anche in questo caso c'è stata un'interpretazione sistematica ed estensiva che ha comportato l'ampliamento della portata del diritto alla salute ponendolo in rapporto diretto con l'ambiente ora sul fronte americano segnalerei una abbastanza recente opinione consultiva della corte interamericana che è del 15 novembre 2017 anche in questo caso la prima pronuncia nel continente americano in cui la corte afferma espressamente che il diritto all'ambiente salubre è un diritto fondamentale per l'esistenza dell'umanità per non tacere della giurisprudenza della CEDU che è ben nota che insomma ha visto la corte europea pronunciarsi svariate volte su casi riguardanti tematiche o problematiche di diritto ambientale e ha in questo modo anche richiamato il diritto all'ambiente salubre e così via questo per arrivare a un punto cioè l'evoluzione ultima la considerazione del valore normativo attuale e della portata del diritto all'ambiente salubre che viene considerato ormai diritto affermatosi a livello universale o che quantomeno dovrebbe essere riconosciuto formalmente dalle Nazioni Unite in uno strumento giuridico internazionale questa call diciamo per questa questa sollecitazione questo invito a un riconoscimento formale del diritto all'ambiente salubre viene dal relatore speciale ONU su ambiente e diritti umani che ha dedicato già ampi studi al tema dell'interrelazione tra ambiente e diritti tra cui il diritto alla salute e quindi al diritto all'ambiente salubre ricordo il rapporto sul cambiamento climatico del 2016 quello sulla biodiversità del 2017 quello sui bambini e ambiente del 2018 e nell'ultimo rapporto che è stato trasmesso all'Assemblea Generale dell'ONU a luglio di quest'anno il relatore speciale si sofferma sugli obblighi degli stati in relazione al diritto di godere un ambiente salubre e sostenibile e sostiene che i tempi sono maturi per includerlo in uno strumento giuridico internazionale di portata universale auspicando che il consiglio per i diritti umani ne consideri appunto l'opportunità e redig un qualche testo in questo senso ovviamente il relatore speciale si rende conto o quantomeno manifesta la sua consapevolezza della resistenza degli stati a accettare un nuovo diritto e quindi nuovi obblighi internazionali in materia di diritti umani soprattutto laddove si ritiene che i contorni di questo diritto all'ambiente salubre non siano sempre ben definiti che siano un po' anche grigi e che quindi possano soltanto aumentare il carico sui governi e diciamo creare ovviamente ulteriori problemi ulteriori impegni dal punto di vista internazionale ma c'è comunque c'è comunque da dire che allo stato attuale tra strumenti regionali convenzione di arus per esempio e convenzione sui diritti umani che prevedono questo diritto siamo ormai a 130 stati siamo buoni a oltre penso siamo a tre quarti della comunità internazionale che lo hanno riconosciuto quindi questo questo riconoscimento formale sarebbe assolutamente coerente con una prassi diffusa a livello nazionale e regionale anche con quella giurisprudenza che ho richiamato prima e apporterebbe benefici significativi in termini di empowerment degli individui di gruppi vulnerabili e intere popolazioni esposte a pesanti rischi ambientali sia in termini di monitoraggio e controllo perché gli stati avrebbero un obbligo di trasmettere dei report periodici perché ci potrebbe essere la possibilità di presentare delle comunicazioni delle petizioni a questi organi di controllo e quindi allargare le maglie del monitoraggio e del controllo internazionale altra possibilità individuata dal relatore speciale potrebbe essere quella di procedere alla redazione di un ulteriore protocollo addizionale al patto sui diritti economici sociali o culturali o molto più semplicemente puntare alla approvazione da parte dell'assemblea generale di una risoluzione che riconosca questo diritto così come ha fatto per esempio per il diritto all'acqua potabile water and sanitation con una risoluzione del 2010 in via di conclusione diciamo questo quadro di fonti internazionali che nascono per la tutela dell'ambiente dà una grossa mano alla tutela della salute pubblica e va a colmare in molti settori le lacune presenti ancora appunto in diritto internazionale della salute e l'approccio One Health induce a affermare che la dimostrata interrelazione tra sicurezza sanitaria sicurezza ambientale sicurezza alimentare e sicurezza sanitaria veterinaria di cui parlavo prima conferma la rilevanza che assume la tutela della salute pubblica anche in ambiti diversi da quelli normativi tradizionalmente considerati cioè diritto internazionale sanitario piuttosto che diritti umani o diritto penale internazionale ci sono delle convenzioni che tutelano o che almeno hanno tentato perché poi la convenzione del Consiglio d'Europa è fallita in questo senso di tutelare l'ambiente e la salute pubblica attraverso il diritto penale ma aggiungerei il diritto del commercio internazionale o degli investimenti quindi fonti di diritto internazionale ambientale standard internazionali di sicurezza alimentare come li citava Pia e di sicurezza veterinaria dovrebbero essere parimenti tenuti in considerazione ai fini della ricostruzione sistematica di un complesso quadro giuridico internazionale che possa concorrere efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo collettivo della sicurezza sanitaria globale e vi ringrazio per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti